10 artisti internazionali realizzeranno sul posto opere in altrettanti eremi abruzzesi percorsi tra natura arte e spiritualità. Parliamo ora della nuova edizione di Eremi Arte con il coinvolgimento di 10 artisti internazionali che realizzeranno sul posto opere dedicate ad altrettanti eremi abruzzesi, inaugurazione ufficiale il 15 luglio a Summona nella bazia di Santo Spirito al Morrone. Omar Reda. L'Eremo come luogo di ispirazione artistica e di promozione del territorio, oltre che centro spirituale. Da questa intuizione nasce Eremi Arte, un'iniziativa arrivata alla seconda edizione e che punta a replicare il successo del 2016. Quest'anno sono stati invitati 10 artisti internazionali che realizzeranno sul posto 10 opere dedicate ad altrettanti eremi abruzzesi. L'evento è stato organizzato dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Il direttore e nonché ideatore del progetto, Marco Brandizzi, fissa le prossime tappe. Sarà questa inaugurazione generale il 15 luglio dove sarà presentato tutto il progetto. In seguito noi pubblicheremo un catalogo della mostra. Tra le altre novità, la giornata di studi sull'eremitaggio è l'esposizione permanente dedicata a Joseph Goese, pittore e scultore tedesco tra i più anticonformisti del Novecento, che 45 anni fa soggiornò per la prima volta in Abruzzo. Per il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, Eremi Arte è un'occasione importante per valorizzare il territorio. Enzo De Leonibus, uno dei curatori dell'iniziativa per l'Accademia, spiega qual è il target turistico del progetto. Il senso di questo tipo di operazione è che bisogna sempre coniugare la cultura, il percorso, la natura. In realtà l'opera non è mai, come dire, mostrata in un modo forte, la devi quasi cercare, quindi voglio dire è un turismo di cui l'Abruzzo ha senz'altro bisogno.